SOLDATINO Tutte le domeniche, appena liberi, due soldatini si mettevano in cammino. Usciti dalla caserma, prendevano a destra, attraversavano Courbevoir, a passo di carica, come in un'esercitazione militare. Poi, lasciate alle spalle le case, con un'andatura più pacata, percorrevano la via maestra, nuda e polverosa, che conduce a Bézón. Erano piccoli, magri, affogati nel cappotto troppo largo dalle maniche che cadevano sulle mani, impacciati nei pantaloni rossi troppo ampi che li costringevano per proceder lesti ad allungare le gambe. Sotto l'alto e rigido berrettone a visiera, i loro volti quasi sparivano. Poi visi incavati di bretoni, dai miti e calmi occhi azzurri, ingenui, d'una ingenuità quasi animalesca. Diretti a un posto che si soli conoscevano, l'unico posto dove si sentissero a loro agio, perché rievocava al cuore il paese nativo, camminavano spediti senza scambiarsi una parola. Il pensare tutti e due alla stessa cosa li esimeva dal discorrere. Giunti sotto gli alberi al bivio delle strade di Colombe e di Chateau, si liberavano del copricapo che li opprimeva e s'asciugavano la fronte. Sul ponte di Bézón stavano sempre un po' a contemplare la Senna a scorrere. La stavano lì piegati in due, a sporgersi dal parapetto, a guardare il grande bacino di Argentel percorso dalle bianche vele inclinate dei clipper, che forse evocava loro il mar di Bretagna, il porto di Van presso cui erano nati e le barche da pesca che traversavano il Morbian dirette a largo. Oltrepassata la Senna, comperavano qualche cosa dal salumiere, dal fornaio e dal vinaio. Un po' di sanguinaccio, quattro soldi di pane e un litro di vinello, costituivano le provviste che avvolgevano nel fazzoletto. Ma appena usciti dal villaggio, procedevano a passo lentissimo e incominciavano a chiacchierare. Davanti ad essi una magra pianura, cospersa di ciuffi d'alberi, conduceva al bosco, al piccolo bosco che loro era parso assomigliasse a quello di Kermarivan. Grano e avena costeggiavano il sentiero perduto nel verde, novello delle messi, e Jean Kerderen diceva ogni volta a Luc de Granidec «È proprio come vicino a Plunivon». Già, proprio come là. E andavano fianco a fianco, la mente piena di vaghi ricordi del loro paese, piena di immagini ritrovate, immagini ingenue come i giornali illustrati da un soldo. Rivedevano un angolo di campo, una siepe, un lembo di landa, un quadrivio, una croce di granito». Ogni volta poi si fermavano, vicino a una pietra che delimitava una proprietà, e ricordava in qualche cosa il dolmen di Loch Neuven. Appena arrivava il primo gruppo d'alberi, Luc Leganidec spezzava tutte le domeniche una bacchetta di nocciolo e cominciava a scortecciarla lentamente, pensando alla gente di laggiù. Jean Kerderen portava le provviste. Di tanto in tanto Luc citava un nome, ricordava un episodio dell'infanzia comune, con poche parole che li facevano pensare a lungo. E il paese, il caro paese lontano, li riconquistava a poco a poco, li assorbiva, mandava loro attraverso la distanza e i suoi aspetti, i suoi rumori, i noti orizzonti, i suoi odori, l'odore della verde landa su cui ispirava il vento marino. Non sentivano più le esalazioni della fogna parigina con cui si concimano le terre dei sobborghi, ma il profumo dei giunti fioriti che la brezza salmastra, dal largo raccoglie e trasporta. E le vele dei canotti, che apparivano da sopra le sponde del fiume, ricordavano loro le vele dei battelli di cabotaggio, intraviste dietro la lunga pianura che si estendeva dalle loro case fino all'orlo del flutto. Lick e Jean camminavano a piccoli passi, tristi, pieni di una tristezza dolce, una tristezza lenta e penetrante di belva in gabbia, che ricorda. E quando Lick aveva finito di spogliare della corteccia la bacchetta sottile, arrivavano all'angolo del bosco, dove facevano colazione ogni domenica. Ritrovavano i due mattoni che avevano nascosto in una macchia e accendevano il focherello di sterpi per cuocervi il sanguinaccio sulla punta dei coltelli. Consumato il parco pasto, mangiato il pane sino all'ultima briciola e bevuto il vino sino all'ultima goccia, restavano seduti sull'erba, da fianco a fianco, senza dir nulla. Gli occhi che guardavano lontano, le palpebre grevi, le dita incrociate come a messa, le gambe coi rossi calzoni allungate accanto ai papaveri del campo, e il cuoio del chepì e l'ottone dei bottoni rilucevano sotto il sole ardente, facendo indugiare le allodole che si ribravano sulle loro teste cantando. Verso mezzogiorno cominciavano a volgere di tanto in tanto lo sguardo dalla parte del villaggio di Bézón, poiché a quell'ora lungeva la serva della mucca. Passava davanti a loro tutte le domeniche per andare a mungere e poi ricondurre alla stalla la sua bestia, la sola mucca del paese che andasse in pastura e che pascolava appunto in una stretta prateria, al margine del bosco, poco più lontano. Presto scorgevano la ragazza, solo essere umano che camminasse nella campagna, e si sentivano rallegrati dai lucidi riflessi che il secchio di zinco sprigionava sotto i raggi del sole. Non parlavano mai di lei, però erano contenti di vederla, senza sapere perché. Era una ragazza alta e vigorosa, rossa e abbronzata dall'ardore delle chiare giornate, un'ardita ragazzona della campagna parigina. Una volta rivedendoli seduti al medesimo posto, disse loro «Buongiorno, venite dunque sempre qui?» Luch de Ganidek, più audace e balbettò «Sì, veniamo a riposarci». Fu tutto, ma vedendoli la domenica successiva, ella rise, rise con una benevolenza protettrice di femmina, disinvolta, che sentiva la loro timidezza, e domandò «Che fate sempre qui? Guardate forse crescere l'erba?» Sorridendo lietamente, Luch rispose «Può essere». Lei continuò «Perbacco, non cresce mica in fretta». E lui replicò sempre sorridendo «Quanto a questo, no di sicuro». La ragazza proseguì la sua strada, ma tornando col secchio pieno di latte, si fermò ancora davanti a loro e disse «Ne volete un goccio? Vi ricorderà il paese». Con l'istinto di creatura della medesima razza, forse lontana da casa essa pure, aveva indovinato e colpito nel segno. I due compagni furono commossi. Allora, non senza difficoltà, ella versò un po' di latte nel collo del litro che aveva già contenuto il vino. E lui che bevette per primo, a piccoli sorsi, interrompendosi ogni momento per controllare se non passava la giusta misura. Poi diede la bottiglia a Jeanne. Lei se ne stava ritta, lì, davanti, le mani sui fianchi, il secchio in terra ai suoi piedi, contenta di aver fatto piacere ai due amici. Poi si allontanò gridando «Andiamocene! Addio! A domenica!» E i due soldatini seguirono con lo sguardo, quanto più a lungo fu possibile, la sua alta figura che scomparve nei prati. Allorché lasciarono la caserma la settimana dopo, Jeanne disse «Se comprassimo qualcosa di buono». Rimasero alquanto imbarazzati sulla scelta della ghiottoneria per la donna dei campi. Luc parteggiava per un salsicciotto, Jeanne invece preferiva le chicche perché aveva un debole per i dolciumi. Il suo consiglio al fine prevalse e comprarono da un droghiere due soldi di confetti bianchi e rossi. Mangiarono più in fretta del solito, agitati dall'ansia. Jeanne scorse la donna per primo. «Eccola!» Luc fece eco. «Eccola!» Lei rise di lontano vedendoli. Gridò «Come va?» I soldatini risposero «E voi come state?» S'avvicinò cominciando a parlare di cose semplici che gli interessavano, del tempo dei raccolti dei padroni. Essi non osavano offrire i confetti che si sfacevano lentamente nelle tasche di Jeanne. Al fine Luc facendosi coraggio disse «Vi abbiamo portato qualcosa!» Lei chiese «Che cosa?» Jeanne, rossito sino alle orecchie, trasse il minuscolo in volto e glielo porse. Lei si mise a mangiare i confetti, passandoli da una parte all'altra della bocca. Essi le formavano sulle guance un lieve rigonfiamento. I due soldatini seduti dinnanzi a lei la guardavano estatici e commossi. Poi la donna andò a mungere la vaccherella. Tornando offerse loro altro latte. Pensarono a lei tutta la settimana e ne parlarono molte volte. La domenica seguente lei sedette vicino a loro per chiacchierare un po' di più e tutte e tre vicini vicini gli occhi perduti nelle lontananze. I ginocchi accostati e chiusi nelle mani giunta raccontarono i fatterelli più minuti. I più minuti particolari dei villaggi nei quali erano nati e vissuti. Mentre la vaccherella laggiù scorgendo la donna seduta tendeva verso di lei la pesante testa dalle narici umide e mughiava lungamente per richiamarla. La donna accettò di mangiare e di bere con i due soldati. Spesso recava anche un po' di prugne perché ne era arrivata la stagione. La sua presenza disincantava i due bretoni che chiacchieravano come gazze. Un martedì Luc chiese un permesso ciò che non era mai accaduto e ritornò in caserma soltanto alle dieci di sera. Jeanne inquieto si stillò il cervello per indovinare la ragione di quell'assenza. Il venerdì successivo Luc dopo aver chiesto prestito dieci soldi chiese ancora ed ottenne il permesso di uscire per qualche ora. Allorché la domenica si camminarono per la consueta passeggiata Luc appariva muto stranito sconvolto. Jeanne non capiva ma sospettava vagamente qualcosa senza indovinare propriamente quel che angustiasse il compagno. Non pronunciarono parola sino al consueto luogo dove avevano già appiattita l'erba per l'abitudine di sedervisi. Mangiarono lentamente e svogliatamente. La donna presto apparve in distanza e guardarono avvicinarsi come tutte le domeniche. Quando fu vicina Luc si alzò e fece due passi. Lei depose il secchio e lo baciò. Lo baciò freneticamente cingendogli le braccia intorno al collo senza badare a Jeanne che era lì presso senza nemmeno accorgersi che vi fosse. E lui Jeanne restò lì smarrito con l'anima in tumulto il cuore che gli scoppiava senza capire bene ciò che avvenisse. La donna sedette accanto a Luc e presero a discorrere come se fossero soli. Jeanne evitava di guardarla. Intuiva adesso perché l'amico era uscito due volte nella settimana e provava in cuore un dolore coccente una specie di schianto. lo schianto che danno i tradimenti. Poi i due si alzarono insieme per accudire la mucca. Jeanne li seguì con gli occhi. Li vide allontanarsi fianco a fianco. I pantaloni del compagno mettevano nella strada una macchia rossa. Fu Luc a prendere da tetra il martelletto di legno e a battere sul paletto cui era legata la mucca. la essicchino a mungerla mentre lui accarezzava distratto la spina dorsale prominente dell'animale. Lasciarono quindi il secchio colmo sull'erba e sparirono insieme nel bosco. Ora Jeanne vedeva solamente il muro di fogliame che si era chiuso alle loro spalle. Si sentiva così sconvolto che se avesse tentato di alzarsi certo sarebbe caduto. Stava lì fermo immobile abbruttito di stupore e di dolore un dolore tanto vivo quanto ingenuo aveva voglia di piangere di scappare di nascondersi di non vedere più nessuno improvvisamente li vide che uscivano dal folto ritornarono a piccoli passi tenendosi per mano come fanno i fidanzati di paese l'uomo portava il secchio si baciarono ancora prima di lasciarsi e la ragazza partì dopo aver dato a Jeanne un amichevole buonasera e un sorriso d'intesa non le venne in mente quel giorno di offrirgli il latte i due soldatini restarono l'uno presso l'altro immobili come sempre silenziosi e tranquilli senza che i loro visi tradissero l'intero turbamento sul loro capo il sole volgeva al tramonto ogni tanto di lontano la mucca muggiva verso di loro alla solita ora si alzarono per tornare Luc sfrondava un rametto Jeanne portava il litro vuoto lo riportò al vinaio di Bézón presero come sempre la via del ponte e come sempre a metà si fermarono a guardare la senna scorrere Jeanne si sporgeva sempre di più si spenzolava dalla ringhiera come avesse scorto nella corrente qualche cosa che lo attirasse non vuoi mica bere un sorso fece Luc non aveva finito di dirlo che il capo di Jeanne si tirava dietro il corpo le gambe descrivevano un arco in aria e il soldatino rosso precipitava spariva nell'acqua atterrito strangolato dalla sorpresa Luc cercò in vano di gridare vede lontano qualche cosa di battersi nella corrente poi il capo dell'amico emergeva alla superficie per risparire subito dopo più lontano ancora una mano una mano sola uscì dal fiume e vi riscomparve fu tutto Luc tornò alla caserma di corsa come un pazzo a raccontare l'accaduto con gli occhi e la voce piena di lacrime soffiandosi ad ogni parola il naso si è spenzolato si è spenzolato tanto che il capo è caduto in avanti ed è finito nel fiume con la testa avanti non gli riuscì di dire altro tanto l'angoscia lo strangolava se avesse potuto immaginare l'angoscia